Beh Guardi, cosa c'è di particolare? E' di qua c'è la movimentazione delle a Allora, le pale oscillano Sì Allora, nulla è montato su cuscinetti Quindi né l'albero centrale né i tre alberini delle pale Sì E' tutto a strisciamento Questo è tutto il peggio dell'ala Che si è autradatta al vento Sì Abbasso il vento Lo passiamo a due Bene, continuo a girare il tramite Fermano Bene, continuo a girare il tramite Se l'aria batte di qua Questo fa così E scarica E scarica Da parte di lì invece Perché Porta avanti Se uno la vuole muovere Deve fare in modo che gira Vedi Basta che Se il vento alza la pala Quello è costretto a girare Perché Sfrutta il peso Della pala Allora, facciamo un appello Cerchiamo interessati? Sì Accendi il ventilatore E appena comincia a muoversi l'aria Abbasso il ventilatore Bene, nella mail Nella mail lo trovate nei commenti del video Ciao, grazie Grazie